Grazie. Io non sono alta come Don Tullio e quindi devo sistemare il microfono di conseguenza. Buongiorno a tutti, ringrazio la Pastorale della Salute e Don Massimo per avermi voluto qui oggi. Allora, parlare di violenza di genere vuol dire parlare di violenza sulle donne. E non solo sulle donne, perché quando parliamo di violenza di genere parliamo di tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori fino allo stalking, allo stupro, che però riguardano gli uomini, le donne, i bambini. È ovvio che le donne sono le più soggette a questo tipo di violenza. La violenza sulle donne, la violenza di genere, la violenza sulle donne in quanto donne, parte già dal grembo materno. Quanti aborti sono fatti semplicemente perché si aspetta una bambina? E la bambina non è il sesso desiderato. Alla base del fenomeno si legge in letteratura, e qui porto la letteratura perché è giusto che sia così, c'è un substrato culturale difficile da eradicare. Perché è difficile da eradicare? Perché si dice auguri ai figli maschi? Perché è il maschio che porta il nome? Perché la donna vale di meno? Per tutte queste ragioni, quando parliamo di violenza di genere, parliamo di un genere che vale di meno. La violenza si esplicita in tante forme, perché la violenza è anche un atto di ritorsione, è una minaccia, è un ricatto, è un ricatto economico. Pensiamo a quante donne sono sotto scacco perché non hanno la possibilità di sostenersi economicamente, e quindi devono soggiacere a delle situazioni oggettive di violenza. Perché non se ne possono andare? Perché non si possono sostenere? Perché non possono mantenere se i figli? Abbiamo detto che molte di queste violenze riguardano i minori, e alcune vedono vittime anche di uomini. Vedremo come. Ma siccome sono una giornalista, e mi hanno insegnato che fa notizia non il cane che morde l'uomo, ma l'uomo che morde il cane, io parto di qua. L'abbiamo visto tutti nei giorni scorsi, abbiamo visto di che cosa si parla, e quindi quando si tratta di stalking, di violenza, di fare del male, è vero che le vittime privilegiate sono le donne, ma principalmente, purtroppo, è la cattiveria umana che fa fare le cose, contro chiunque ci si rivolga. Allora, partiamo con un po' di dati, perché se no non si capisce. Allora, abbiamo visto che secondo delle indagini condotte tra il 2005 e il 2016, quindi un discreto arco temporale, in 87 paesi del mondo, quindi partiamo da una visione globale del fenomeno, il 19% delle donne fra i 15 e i 49 anni hanno dichiarato di aver subito violenze fisiche o sessuali da parte del partner, o di un ex partner, nei 12 mesi precedenti intervista. Quindi nell'anno precedente abbiamo visto che il 20% delle donne ha dichiarato di aver subito una qualche forma di violenza. Prevalenza delle violenze, una variabilità geografica, valori più bassi in Europa, mentre in Asia centrale e meridionale la percentuale si alza. Schema, perché i dati si vedono sempre meglio su un grafico, in cui le torri evidenziano meglio le disparità. Allora, appunto, come dicevamo, vediamo che progressivamente il numero delle violenze, la percentuale delle violenze scende, ma comunque la media è molto alta. Nel complesso, un miliardo di donne hanno subito violenza nel corso della vita. Sono una su tre. Allora, una su tre vuol dire che se adesso noi facessimo questo gioco, e contando anche gli uomini, perché gli uomini qui rappresentano una madre, rappresentano una sorella, qualcuno rappresenta una figlia, vorrebbe dire che se adesso ci alzassimo contando uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, saremo in tanti in piedi in questa sala. Perché finché si tratta di numeri, sono sempre un po' astratti. Quando invece poi uno lo fa concretamente, si rende conto di quanto sono enormi. Parliamo dell'Italia. In Italia si parla di 6.788.000 donne, ovvero il 31,5% delle donne fra i 16 e i 70 anni dichiarano di aver subito nel corso della vita una violenza. Chi compie le violenze? Come diceva Elisabetta nell'introdurre la relazione. le persone a cui vogliamo bene, le persone che più ci sono vicine, le persone che dicono di amarci. Se la donna non si tocca neanche con un fiore, beh, qui invece la si tocca anche pesantemente. E se è una ragazza ha meno di 30 anni, beh, la percentuale è notevole, se si parla anche di minorenni. Perché l'Istat stima, e vada bene si stima, che il 4,1% delle ragazze che oggi hanno meno di 30 anni abbia subito una violenza sessuale quando era minorenne. Ed è in aumento la percentuale dei figli che assistono alla violenza sulle madri. Oppure di quelli che sono stati irrettamente coinvolti. Ecco che, come cresceranno questi bambini? Cosa penseranno? Come introietteranno il rapporto tra l'uomo e la donna? Come un rapporto di violenza? Di sopraffazione? È sempre un abuso di forza, di potere. Il più forte sopraffa il più debole. Quindi abbiamo detto, quasi una donna su tre. Più dell'80% degli stupri sulle donne italiane è stato commesso da un italiano. Questo a margine di molta retorica che viene fatta. La quota di donne straniere che hanno dichiarato di aver subito violenza sessuale è pari a quella delle italiane. Quindi non c'è differenza tra le italiane e le straniere. Per il solo fatto di essere una donna, e torniamo a qualche slide fa, una su tre ha subito una violenza. E le differenze stanno nel fatto che la violenza fisica è riportata più frequentemente dalle straniere, sulle sessuali e sulle italiane. Quindi cosa vuol dire la violenza fisica? La violenza fisica vuol dire che queste donne vengono picchiate ripetutamente. Quando noi parliamo di donne che si rivolgono al personale sanitario, vediamo purtroppo una pecca, perché una vittima italiana su tre ha dichiarato che il personale sanitario ha fatto finta di niente. È uno dei motivi per cui, per esempio, le denunce sono molto poche. Perché viene chiesto più frequentemente alle straniere di fare denunce che non alle italiane? Perché si presuppone che le straniere non abbiano una famiglia alle spalle e che invece le italiane ce l'abbiano. E questo, se permettete, una riflessione personale, è quasi un po' peggio. Come dire che tanto tu hai la famiglia che ti protegge e ti torna nella famiglia, non hai bisogno di denunciare. Perché ci sarà qualcuno che comunque ti rimette in piedi, ti rimette in sesto, non hai bisogno di andare verso il tuo persecutore. Mentre invece, poverina, la straniera non ha una famiglia alle spalle, quindi hai bisogno di rivolgersi alla giustizia. E infatti le denunce sono poche. Sono veramente poche. Perché denunciano l'11,4% delle donne italiane. Se denunciano l'11,4% delle donne, vuol dire che quasi il 90% non denuncia. Eppure i reati di violenza ci sono. Sono stati più di 4.000 nel 2016. Erano di più nel 2014, di meno nel 2015. Sono state 7.633 le persone denunciate per violenza sessuale. Più di 9.000, quasi 10.000 per percosse, 11.000 per stalking e 13.000 per maltrattamenti in famiglia. Perché non si denuncia? Beh, è facile. Perché abbiamo paura di non essere credute. Perché la prima cosa che ti succede quando vai a denunciare, ti dicono, ma è sicura? Ma c'erano testimoni. Eh no, c'eravamo io e lui. Non c'era nessun altro. Quindi è la sua parola contro la sua. Ma è sicura di quello che è successo? È sicura di non aver equivocato? E poi ti chiedono, come eri vestita? È sicura di non essere stata troppo provocante? È sicura di non aver fatto qualcosa? È sicura di non esserci stata fino all'ultimo? E a questo punto le donne si sentono in colpa a prescindere. Perché per tutto quello che ci hanno inculcato fino da bambine, la modestia, l'attenzione, non devi farti guardare, devi passare possibilmente rasante i muri, se dai confidenza poi la colpa è tua. Allora a questo punto ti senti già in colpa prima. Allora dici, forse ho fatto qualcosa di sbagliato io. E da vittima ti senti carnefice. Perché pensi l'ho aiutato io quel comportamento? E allora preferisci stare a casa. Questa diapositiva è perché, proprio a proposito del come vi rivestite, c'è stata una ragazza di Cork in Irlanda che è stata violentata. E al processo i giudici le hanno chiesto di mostrare la sua bianchiera intima. Per dimostrare che se lei portava un perizoma, insomma, lei era già predisposta. Chiaramente si era vestita così perché avrebbe avuto intenzione di avere un incontro sessuale. E questa ragazza, questo perizoma, l'ha dovuto mostrare tre volte. E in più a un certo punto, siccome era una ragazza, era un perizoma carino, magari c'era scritto anche qualcosa di divertente sopra, ecco i giudici hanno cominciato a insinuare che se quella già indossava un perizoma, e notate che ho detto quella, e in più su quel perizoma c'era una frase divertente, beh insomma, non poteva assolutamente essere stata una violenza, lei doveva essere stata consenziente. C'è una mostra, qui non ve l'ho messa, ma c'è una mostra altrettanto interessante, fatta proprio con gli abiti delle donne violentate, e si intitola Come ero vestita. Per dimostrare che non è che perché io vado vestita in un certo modo posso essere oggetto di violenza sessuale, anche perché per esempio vedo sedute in platea molte religiose, ci sono molti casi di violenza proprio contro le suore, e non mi sembra che vadano in giro vestite in maniera provocante. In più, sempre il perché non denunciamo, la violenza più frequente è opera di chi? Di qualcuno che conosciamo. Quindi se qualcuno che conosciamo è un marito, un compagno, un vicino, un nonno, un fratello, a volte un sacerdote, allora diventa difficile dire è stato lui. in quanti casi dopo anni esce fuori che quell'uomo che era il pilastro della comunità, espressione molto americana ma che rende molto bene l'idea, in realtà poi era un molestatore seriale. Ah, ma chi l'avrebbe detto? Tanto una brava persona. Ecco, forse proprio per questo, per questa immagine che si era costruita nessuno aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo. Sempre due schemi, tanto per far capire l'entità del fenomeno. Dalle fonti del Ministero dell'Interno queste sono le persone denunciate, arrestate, per atti persecutori, maltrattamenti, percoste, violenza sessuale. Vedete come i maltrattamenti e gli atti persecutori siano molto in crescita. D'altronde sono sui giornali ogni giorno, quindi non vi racconto niente che non sappiate. Idem. Allora, perché per lo più a sfondo maschile? Perché i detenuti maschi che sono in carcere per aver commesso violenza sessuale sono quasi 3.000. 691 per percosse, per stalking, e ho 186 per percosse. Quindi abbiamo dei reati in aumento, dei reati che sono sono perseguiti e meno male. Si arriva un po' difficilmente alle condanne, crescono, crescono con calma, proprio perché ci sono tutte quelle difficoltà a monte di cui abbiamo abbiamo parlato abbiamo parlato prima. Di positivo interessante, perché alla fine in un mondo in cui tutto è quantificabile, dobbiamo anche dire che ha un costo la violenza sulle donne. Sono 17 miliardi di euro l'anno. Avete idea delle cose che si fanno con 17 miliardi? è un po' come avete presente quella faccenda, quella faccenduola dei vaccini, Che tra farli e non farli, però se poi non si fa e ci si ammala, allora questo ha un costo per la sanità enorme. E qui la stessa cosa, se noi non facciamo prevenzione, se noi non fermiamo prima, poi tutto questo ha un costo di 17 miliardi di euro l'anno. forse se la mettessimo sul piano dell'economia qualcuno ci metterebbe mano meglio perché quando li tocchi nel portafoglio sono sempre tutti più attenti. Una particolare forma di violenza particolarmente mi spiace dire sgradevole ma non è è quella contro le persone disabili. Perché se già una donna è considerata un oggetto, una donna con una disabilità è un oggetto rotto e quindi di un oggetto rotto posso anche curarmi di meno perché tanto già vale meno di suo già vale di meno perché è una donna se poi è una donna disabile vale ancora di meno questo le espone a un rischio doppio rispetto alle altre donne e una percentuale ancora maggiore le donne con una disabilità intellettiva se già non viene creduta una donna diciamo in sé nel possesso delle sue facoltà immaginatevi una donna con una disabilità intellettiva se l'è inventato già dicono che ce lo inventiamo normalmente anche qui alcuni numeri sempre perché aiutano a comprendere la dimensione del fenomeno le donne con la disabilità sono stimate in 300 milioni quindi sono il 10% della popolazione mondiale l'Unione Europea ha una stima di 40 milioni di donne il 16% delle cittadine europee tra queste si ritiene che il 40% subisca violenza c'è un'ulteriore ricerca che l'aumenta addirittura al doppio questo che cosa vuol dire che se noi abbiamo tutti questi dati così approssimati così insufficenti vuol dire che già l'attenzione al fenomeno è più scarsa passiamo abbiamo parlato di omicidi di femminicidi però anche qui cerchiamo di dare un contorno allora nel 2017 abbiamo avuto 0,6 omicidi per ogni 100 mila abitanti che cosa succede succede che il numero degli omicidi per gli uomini si sta riducendo ma rimane stabile per le donne anche questo è un dato che dovrebbe farci pensare se fosse un fenomeno univoco vorrebbe dire che se un tasso si riduce si riduce per entrambi per maschi e femmine perché si riduce per gli uomini e non per le donne dato geografico in Italia gli omicidi di uomini sono soprattutto nel mezzogiorno di solito legati ai fenomeni della malavita della criminalità organizzata mentre per gli omicidi di donne non c'è una localizzazione geografica prevalente ci uccidono dappertutto torniamo sui dati precedenti nel 32% dei casi gli uomini sono stati uccisi da una persona che non conoscevano mentre l'80% delle donne viene ucciso da una persona che conosce quindi è ucciso da qualcuno di cui si fida di cui si è fidata con cui ha una relazione abbiamo parlato a lungo della modalità di relazione che cosa è il femminicidio Giorgio Alleva che era il presidente dell'istituto nazionale di statistica diceva secondo le nostre elaborazioni sui dati del ministero dell'interno sono state 149 le donne vittime di omicidi volontari nel 2016 di questi quanti sono stati i femminicidi non essendoci a livello europeo una definizione univoca di femminicidio tutto quello che possiamo dire è che 3 donne su 4 3 su 4 e tanto è 3 su 4 1 2 3 4 1 2 3 4 se ci rialzassimo con quello di prima saremmo di nuovo tanti in piedi in questa sala quindi 3 delitti su 4 sono stati commessi in ambito familiare 59 donne uccise dal partner 17 da un ex partner e 33 da un altro parente quindi che cosa possiamo dire che il femminicidio è l'uccisione di una donna per questione di genere ovvero ti uccido perché sei donna e donna in quanto donna meriti di essere uccisa c'è questa parte del Corriere della Sera che si chiama la 27esima ora dedicata alle tematiche femminili che ha questa sezione molto interessante molto toccante che vi consiglio di visitare che raccoglie le foto e le storie delle donne uccise dal 2012 a oggi sono 824 e appunto parte dal 2012 quindi immaginatevi tutte quelle prime per ogni per ogni fotina quando ci cliccate sopra quando ci passate sopra col mouse esce il nome se poi ci cliccate sopra c'è una breve scheda dove si racconta in termini veramente molto semplici la vita semplice e la morte altrettanto semplice altrettanto drammatica di ciascuna di loro potrei raccontarvene molte ne scelgo una che ha un risvolto ironico se volete un uomo picchiava la moglie ve la riassumo per non darvi indicazioni di persone ve lo racconto come fosse un aneddoto ma è tristemente così situazione di violenza grave in famiglia l'uomo che picchiava la moglie e la la soggettava dal punto di vista psicologico fisico lei non non se ne andava per tutta una una serie di ragioni che poteva che erano andavano da quelle economiche a quelle proprio di sentirsi soggiogata in casa dalla violenza di quest'uomo che la minacciava continuamente a un certo punto cominciano a sparire i soldi se ne sono sempre meno se ne sono sempre meno e dalle voci di paese la donna viene a scoprire che l'uomo la tradiva la tradiva con una con una prostituta ma con una prostituta specializzata in diciamo dominazione sull'uomo quindi quest'uomo che in casa picchiava la moglie di fatto pagava un'altra donna perché picchiasse lui la donna aspetta il marito a casa la sera e e gli dice guarda ho scoperto tutto vedo che tu fai così e lui si arrabbia ancora una volta la picchia e a questo punto lei ha un'illuminazione e si mette a ridere e gli dice certo che tu mi picchi gratis e paghi una invece che picchi te e a quel punto l'uomo la uccide perché tutto poteva sopportare meno di essere preso in giro non c'è solo appunto l'omicidio il famicidio la violenza sappiamo che il 4,1% delle donne e lo 0,7% degli uomini in età compresa tra i 18 e i 29 anni sono state vittime di violenze di tipo sessuale prima dei 18 anni quindi sappiamo che la violenza parte molto presto quindi 2 milioni le persone in età compresa tra i 14 e i 65 anni che in un anno hanno subito una qualche forma di violenza sessuale 1 milione e 437 mila le donne 610 mila gli uomini perché dico questo? perché anche gli uomini sono soggetti a violenza sessuale a molestie sessuali mica solo le donne certo è difficile che agli uomini qualcuno dica questo è più difficile che gli uomini vengano molestati sessualmente per strada con epiteti con ammiccamenti con come dire inviti del genere almeno nessuno degli uomini che conosco mi ha mai detto sai che sei fermata una bionda e mi ha detto ehi ti do un passaggio io mai vado rapidamente si parlava della violenza sulle donne abbiamo anche la violenza sugli uomini ho scelto volutamente Botero su Abu Ghraib perché io quella mostra l'ho vista avevo visto come tutti noi le fotografie avevo visto i filmati ma non è la stessa cosa nell'interpretazione dell'artista c'era tutta la violenza c'era tutta la sopraffazione degli uomini sugli uomini noi sappiamo che gli uomini possono essere vittime di violenza sessuale contro i detenuti quando sono detenuti quando sono privati della libertà possono essere vittime di prostituzione forzata di sfruttamento del lavoro anche questa è una violenza di tortura nel traffico di esseri umani abbiamo visto tutti le foto dalla Libia la molestia la violenza psicologica la violenza domestica la violazione di diritti relazionali in quanti casi di separazione di divorzio gli uomini sono di fatto messi a margine della propria famiglia non hanno più contatti con i figli questa è una violenza infine la violenza sui bambini è stato abusato una bambina su quattro e un bambino su dodici anche in questo caso vedete che le proporzioni sono sempre quelle è più facile che venga abusata una bambina che un maschio ma anche quelli i minori con handicap e qui si ripropone quello che dicevamo prima sulla disabilità hanno il doppio di probabilità di essere a rischio i due terzi degli abusi vengono in famiglia conseguenze certo il 60% delle vittime soffre di disturbi psicofisici per tutta la vita il 30% rischia di diventare un abusatore perché lo dicevamo prima io continuo a replicare qualcosa che ho vissuto qualcosa che ho interiorizzato quali sono i minori più a rischio i bambini insicuri saranno più a rischio dei bambini sicuri di sé i bambini che si isolano saranno più a rischio dei bambini che invece stanno in gruppo stanno insieme i bambini che si adattano troppo facilmente i bambini che hanno poche persone di riferimento o uno scarso sostegno familiare perché lo cercheranno fuori chiunque gli dia un appiglio una possibilità di dire ehi guarda che io mi sto occupando di te mi sto accorgendo di te lo rende una vittima ideale bambini appunto con un handicap mentale o fisico quelli che soffrono su di sé di un'ambizione di famiglia e quindi pensano di non essere mai all'altezza devo difendere qualcosa devo essere il più bravo ecco perché vi ho parlato di minori in ultimo e chiudo io sono la coordinatrice nazionale del servizio tutela minori della CEI che è stato è stato creato anche seguendo le indicazioni del Santo Padre proprio per cercare di prevenire attraverso la formazione e l'informazione le violenze sui minori che si possono consumare in ambito ecclesiastico noi stiamo cercando di lavorare per evitare che questo accada ce la mettiamo tutta e a breve usciranno le linee guida destinate alle diocesi in questo senso la Chiesa si sente investita di questa missione proprio per la sua funzione di agenzia educativa sarebbe bello che anche altre agenzie educative facessero lo stesso grazie grazie